Allora ragazzi, ora vi mostrerò come vincere con 0 kill in questa normalità Ragazzi, è abbastanza semplice, andate in un posto camper, prima cosa Seconda cosa, dovete lottare il più veloce possibile senza, ad esempio, prendere le munizioni e solo aprire le casse velocemente Ad esempio, io sono andato a Gabbo, poi sono andato all'abattura della latrina e alla sedia E infine, sono andato a Condutti Praticamente, dovete essere più veloci possibile a prendere le monete, date sempre precedenza a quelle del 100 E, vabbè ragazzi, vi lascio il video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti